Meno male l'entrato, abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo lottato fino alla fine, cercando di sbloccare la partita, alla fine ci siamo riusciti. E niente, complimenti a tutti i ragazzi, siamo stati bravi a passare questo turno che per noi è molto importante. Partita tutt'altro che facile, il Cagliari è un po' la bestia nera dell'Atalanta, se così la vogliamo definire, di queste ultime stagioni perché non si era mai riusciti a fare risultato. Sì, sì, anche di questa partita sembrava anche un po' così, che alla fine anche loro hanno avuto delle occasioni, però alla fine è venuta dalla nostra parte il risultato e poi siamo stati bravi anche a fare un altro gol. E' importante, importante continuare su questa strada, che adesso a questo inizio di anno ci saranno partite molto importanti per noi. Ecco, anche perché era la prima partita del 2019, arrivavate da due settimane di stop, insomma, bisognava ingranare, avete ingranato bene, siete partiti bene. Adesso, dopo la Coppa Italia, il campionato, il frosinone, altra partita in trasferta? Sì, sì, non era facile, dopo la sosta, avere questa continuità di risultati, pure del gioco, però penso che, come ho detto prima, abbiamo fatto bene, adesso pensiamo sul campionato, che abbiamo delle belle partite, dove dobbiamo fare bene, dobbiamo fare i risultati. Quindi a casa c'è il piccolino che ti aspetta, non gli porti il pallone, però papà ha fatto gol. Sì, sì, sicuramente sarà contento. Lo vedrò già domani, perché adesso sicuramente sta dormendo, domani c'è scuola, quindi lo vedrò domani, quando si sveglia sicuramente mi dirà qualcosa.